Musica San Perea Seve che era partito alla grande in questo girone A di promozione rivelandosi come una delle squadre sorpresa per i punti ottenuti e soprattutto per le prestazioni perché anche a Viareggio aveva destato veramente una bella impressione poi però alla distanza la formazione mugelana è un po' calata La disposizione del Viareggio con pizza centrale e anche marinai quindi o 4-4-1-1 o 4-3-1-2 Se Belluomini più vicino a Brega o largo con Manolo Benassi dalla parte opposta fischia Galligani e si comincia Ma Brega in verticale, lo scatto di Manolo Benassi lo vede Brega con un'azione simile a Monsumano, Tommaso Belluomini si coordina e calcia Centrale per Fedele, scarico interno, Gori, controllo e conclusione Care Tommaso Belluomini, la testa di Bencini pronto ad alimentare marinai Bodi lo va a prendere, marinai cross, secondo polo, Manolo Benassi schiaccia e porta avanti il Viareggio con il cross di Marinai e Manolo Benassi Stavolta non sbaglia, a differenza di Montremoli 31-41-0 Fedele, ora cerchiamo di ridisegnare comunque via intanto alla ripresa Algerino le finte, non lo tiene Belluomini ancora Algerino si mette in proprio conclusione Angolo, cerca di innescare Tommaso Belluomini raccoglie Marinai, Brega, da e vai, Marinai conclusione Algerino insiste da quella parte scarico interessante Santilli bandierina giù seguiamo un attimo l'angolo, Marinai cercare il colpo di testa di Bertacca largo va via Brega, Bertacca, centrale vinta pallone dietro, attenzione Cesarini può andare Bencini, subente Fazzini in verticale, Brega a mezzo a due prova a passare, vince l'impallo Brega fino a fondo, ancora Brega Cesarini, non è finita Cesarini, il sinistro alto si mette in proprio, poi non accelga Fazzini va ancora a sfidare Frilli Fazzini, Fazzini Rita e poi Bencini ad allontanare Baroncelli dalla bandierina verso cantite colpo di testa 1-1 Brega del San Piero assieme Largo verso Belluomini che riesce a passare su Barzagli non lo tiene Belluomini sguardo in mezzo Rita Smanaccia non è finita Benedini pronto al controcross poi sbaglia c'è la chiusura di Gianni e allora Baroncelli Ricci fischia tre volte Galli Gani 1-1 il San Piero assieme strappa il pari con il gol al 44esimo della ripresa di Gori a 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 advancedleveli